le polemiche scuotono il grande fratello lorenzo spolverato al centro dell'attenzione lorenzo spolverato si è trovato al centro di una serie di polemiche all'interno della casa del grande fratello le sue dichiarazioni considerate spesso inopportune hanno suscitato l'indignazione del pubblico e dei social media in particolare una frase recente ha scatenato la rabbia di molti io sono quello con la 104 questa affermazione riferita alla legge 104 per i diritti delle persone disabili è stata vista come estremamente mancante di rispetto verso una tematica così delicata la reazione del pubblico non si è fatta attendere l'hashtag fuori lorenzo è diventato di nuovo un trend sui social con molte persone che chiedono a gran voce l'espulsione del concorrente dal programma la questione diventa ancora più seria considerando che il grande fratello ha sempre avuto un ruolo importante nel trattare temi sociali e di inclusione le parole di spolverato hanno non solo colpito gli spettatori ma hanno anche messo in discussione l'immagine stessa del programma in questo contesto sorge la domanda su quale sarà la risposta della produzione e del conduttore alfonso signorini finora non sono stati presi provvedimenti ufficiali nei confronti di spolverato alimentando ulteriori polemiche alcuni fan si chiedono se sia giunto il momento di prendere una posizione chiara e punire comportamenti che non rispettano i valori di inclusione e rispetto non solo lorenzo spolverato ma anche la produzione del grande fratello ha commesso un errore durante una serata di karaoke i microfoni sono rimasti aperti mentre gli autori deridevano una concorrente questo episodio ha sollevato interrogativi sulla professionalità della produzione e sulla loro capacità di gestire situazioni delicate con le polemiche che si intensificano il futuro di lorenzo spolverato all'interno del grande fratello è incerto la sua leggerezza nel trattare temi seri ha messo in discussione non solo la sua permanenza nel programma ma anche il modo in cui il reality affronta questioni sociali gli spettatori attendono con ansia una risposta dalla produzione sperando che venga presa una decisione che che venga presa un'altra risposta da un'altra risposta che venga presa un'altra risposta